Benvenuti al video dell'oroscopo di branco di oggi. Scopriamo insieme le previsioni di questa giornata su amore, lavoro e fortuna per ogni segno zodiacale. L'oroscopo del segno ariete. Oggi potrete godere della bellezza del vostro ambiente quotidiano, così come la compagnia di amici, fratelli e familiari. Senti che qualcuno si preoccupa di te, ecco perché vuoi dirgli che anche tu ti preoccupi. Sarai circondato da più persone e ne sarai felice. Parlare ti aiuterà a trovare pace e a chiarire le tue idee. Sfrutta al massimo questi momenti positivi, non rimanere disconnesso. Ariete, un'amicizia può avere un inizio positivo. Arriva un cambiamento inaspettato o anche cattive notizie inaspettate, forse la morte di qualcuno, un licenziamento o una rottura. Qualcosa finisce in modo imprevedibile, qualcosa che non è piacevole, ma che, tuttavia, potrebbe avere conseguenze positive per te, poiché per entrare in una fase migliore deve finire quella precedente. L'oroscopo del segno Toro. Hai idee precise, soprattutto per i tuoi progetti di gruppo, la fortuna sarà dalla tua parte in tutte le aree. Oggi c'è un'area vagamente creativa, che non andrà affatto male. Avrai delle belle conversazioni. Istintivamente sarai in grado di attirare la fortuna nel campo finanziario. Ascolta la tua voce interiore per risolvere alcuni fastidiosi problemi. Toro, approfitta del presente e dei piaceri che offre, senza preoccuparti del futuro. Ti manca l'obiettività. Non avrebbe senso trarre conclusioni. Aspetta e guarda. Il passaggio del sole nel vostro segno vi mette al riparo dalle grandi avversità e, al contrario, vi incoraggia a realizzare i vostri sogni più intimi o i compiere, almeno, passi importanti in quella direzione. E proprio oggi vivrai una giornata un po' magica in cui vedrai come è possibile realizzare i tuoi sogni. L'oroscopo del segno gemelli. Oggi troverai un modo per evitare le difficoltà e mostrarti più fermo e chiaro in ciò in cui credi. Troverai le parole al volo e discuterai in modo molto convincente. Gli scambi con persone vicine stanno diventando più chiari. Se i blocchi hanno colpito la tua sensualità, la situazione diventa sempre più leggera e troverai climi tanto complici quanto intensi. Il tuo potenziale, gemelli, sta assumendo una nuova dimensione. Oggi la luna sarà in posizione avversa e contribuirà a rendere la vostra giornata più complicata e le cose non andranno come vorreste, provocandovi anche grande irritazione o tendenza a sentirvi molto turbati. Se possibile, ti conviene non prendere iniziative importanti oggi, altrimenti pensaci con calma. L'oroscopo del segno cancro. Questo è un giorno in cui molti cancro saranno stimolati nel loro interesse per l'arte, la musica e la poesia, e saranno desiderosi di condividere il loro apprezzamento per la bellezza con qualcuno. Per altri, alcuni dei tuoi progetti ti faranno sentire troppo impaziente. Sarai di un certo umore e non c'è dubbio che nessuno ti intimidirà. Rischi di apparire troppo egocentrico. Devi rilassarti e rallentare le tue idee. Concediti il tempo per una riflessione obiettiva e raggiungerai i tuoi obiettivi. La stabilità sarà lì nella tua vita amorosa. Oggi vivrai momenti di grande ottimismo in cui sarai sicuro che i tuoi sogni si realizzeranno e potrai arrivare dove vuoi. Non c'è dubbio che questo potrebbe accadere e i pianeti sono sempre più a vostro favore, ma per questo è conveniente che sognate di meno e combattete di più. Ma ora i tuoi sogni sono più piacevoli. L'oroscopo del segno leone. Sarai veloce a vedere il quadro generale e condividere le tue idee con amici o colleghi. Potresti vedere un modo migliore per relazionarti con gli altri, specialmente se questo è l'obiettivo del tuo gruppo. Ti piacerà anche avere a che fare con persone più giovani di te, specialmente se sono coinvolte nelle arti. Leone, oggi amore e onore vanno di pari passo. Lascia che la tua altra metà ti coccoli e goditela al meglio. Seguire il flusso è la cosa migliore che ti possa capitare. Colpo di fortuna o ottima notizia che arriverà da lontano o forse andrai a cercarla tu stesso attraverso un viaggio. Questo sarà un giorno con grandi possibilità per te, e dovresti trarne il massimo vantaggio ed essere anche più audace del solito. Il successo o il riconoscimento ti verranno da lontano. L'oroscopo del segno vergine. Oggi qualcuno potrebbe chiedere il tuo consiglio su come fare qualcosa di meglio. Ti sentirai bene se ti impegni. La tua mentalità ti incoraggerà ad agire direttamente sui tuoi piani. Segui i tuoi pensieri e non pensare nemmeno al fallimento. Le influenze combinate di Venere e della Luna ti stanno riempiendo di energia positiva, che ti porta una grande ondata di fortuna. Vergine, non rimanere sola perché potresti annullare tutte le tue possibilità. Nonostante la tua grande tendenza a curare tutto nei minimi dettagli e ad agire dopo una grande pianificazione, però, oggi farai un'eccezione e sarai mosso molto di più da impulsi, intuizioni o sentimenti, e funzionerà anche per te. Oggi sarà davvero un giorno molto magico per te e ti sentirai diverso. L'oroscopo del segno bilangia. Poiché il tuo apprezzamento per la bellezza aumenterà oggi, ti piaceranno gallerie d'arte, musei. Recuperare il passato è solo una scusa per evitare di andare avanti. Alleggerisci la tua mente. Potresti sentirti più calmo se poni solo le domande che ti hanno turbato in modo razionale. Dovresti toglierti un po' di peso dalle spalle. Stai pensando in modo molto naturale a migliorare il tuo io interiore e semplificare la tua vita quotidiana. Bilancia, troverai più tempo per farla franca. La luna sarà afflitta oggi da una serie di contatti avversi con altri pianeti e questo favorirà in voi stati d'animo negativi, depressivi o malinconici, anche se non ce n'è motivo, che influenzeranno sia il lavoro che la vostra vita intima. Fortunatamente, queste sono solo nuvole temporalesche di passaggio. L'oroscopo del segno Scorpione. Oggi sarai favorito dalle discussioni su come condividere qualcosa. Questo è un buon momento per esplorare come affrontare la proprietà condivisa, le tasse, il debito e le questioni assicurative. Nel frattempo, il romanticismo sarà appassionato e amorevole. Il tuo approccio aperto alla sensibilità del tuo partner sta dando i suoi frutti. Scorpione, la tua simpatia ti libera da restrizioni che d'ora in poi saranno irrilevanti. Vedrai l'amore da tutte le angolazioni, come mai prima d'ora. Vi attende una giornata abbastanza favorevole per questioni lavorative e commerciali o finanziarie, e nella quale agirete mossi da grande ottimismo grazie agli ottimi influssi che state ricevendo da Marte e Venere. Potrai utilizzare il tuo grande potere di seduzione e la tua enorme energia per aprire strade e raggiungere i tuoi obiettivi. L'oroscopo del segno sagittario. Dovresti fare qualche ricerca sui fatti prima di prendere una decisione che comporta un compromesso. State beneficiando delle influenze planetarie che stanno sollevando il vostro morale. Stai andando nella giusta direzione. Oggi è materialmente possibile che qualcosa cambi la tua vita. Assicurati di analizzare davvero la situazione prima di saltare nel vuoto. Sarai abbastanza corazzosi da convincere gli altri che i tuoi progetti sono fondati. Sagittario, il tuo percorso è chiaro. Questo sarà uno dei segni più favoriti di oggi grazie alla magnifica influenza di Giove, il tuo pianeta dominante e uno dei più fortunati. Ascolta il tuo intuito, tendi ad averlo sempre molto sviluppato, ma è possibile che oggi ne hai anche un po' di più e ti darà la chiave che ti serve per raggiungere il successo. L'oroscopo del segno capricorno. Oggi sarai abbastanza produttivo nel tuo lavoro. Anche la tua salute sarà migliore perché avrai un buon senso dell'equilibrio in tutto ciò che fai, non solo fisicamente ma intellettualmente. Vedrete chiaramente cosa dovrebbe essere fatto e cosa dovrebbe essere evitato. Le buone relazioni intorno a te sono la ragione del tuo benessere interiore. L'amicizia scalda il cuore. Capricorno, ora è il momento perfetto per correggere un errore che è stato fatto molto tempo fa e che ti semplificherà la vita. Possibile arrivo inaspettato di denaro o poi ottenere un successo inaspettato legato alle finanze. Nonostante la tua tendenza a ottenere tutto con molta fatica, tuttavia, la fortuna ti aiuterà molto in quello che potrebbe accadere a te oggi o forse a una terza persona. Prospettive eccellenti in tutto il materiale. L'oroscopo del segno acquario. Questo è un giorno favoloso per te, soprattutto se lavori nelle arti perché sarai in contatto con la tua musa creativa. Ti senti molto a tuo gioco con te stesso e un'ondata di ottimismo ti darà un'immagine grande e colorata della vita. Ti piacerà anche insegnare o condividere attività ludiche con i bambini e sarai più affettuoso con amici e amanti. Acquario, le circostanze richiedono che tu esca dal tuo goscio e abbia il coraggio di cercare nuovi incontri o rivelare di più suddite alla tua dolce metà. A volte ti rende più felice aiutare altre persone e contribuire alla loro felicità rispetto al fatto che la felicità entri nella tua vita o che qualcun altro te la porti, e qualcosa del genere ti succederà oggi. Trovi il senso della tua vita migliorando quella degli altri, soprattutto quella dei tuoi cari, e oggi farai qualcosa che ti farà sentire orgoglioso. L'oroscopo del segno pesci. Oggi sarete più comprensivi e sensibili alle considerazioni degli altri. Pesci, è tempo per te di avvicinarti ai tuoi cari. Devi dare libero sfogo ad alcune delle tue emozioni, che ti risparmieranno un po' di angoscia e i tuoi livelli di energia miglioreranno. Un'opportunità di cambiamento nella tua sfera emotiva potrebbe colpirti duramente. Raccogli il tuo ingegno e prenditi il tuo tempo prima di prendere decisioni drastiche. Ciò implicherebbe un impegno a lungo termine. Oggi ti aspetta una giornata difficile, la luna è afflitta e questo farà sì che non solo tu abbia la tendenza a cadere in emozioni negative, ma lo stesso accadrà anche a molti tuoi amici e persone intorno a te e si sfogheranno con te. Oggi dovrai far fuori quel prete che vive dentro di te.